Alla partita di sabato tra Giarra e Torregrotta ha assistito anche Fabio Castellazzi, ex centrocampista che ha vestito la maglia giallo-blu tra il 1988 e il 1991. Castellazzi è tornato in Sicilia dopo tanti anni e per l'occasione è stato ricevuto nella sala stampa dello stadio regionale dal presidente del Giarre Calcio Giulio Nirelli e dall'assessore allo sport del comune di Giarre Piero Mangano. Giarre per me è sempre nel cuore, ho amici, ricordi magnifici, poi soprattutto a livello anche calcistico abbiamo assaporato, abbiamo fatto la Coppa Italia con Genova e Ascoli di Serie A, arrivando nei primi sei erano un po' di regole diverse in una volta, arrivando nei primi sei si poteva effettuare questa Coppa Italia con giocatori di Serie A, però il cuore è ancora qua, mi ricordo, appena posso faccio sempre un salto. Io ero abbastanza giovane, avevo 19 anni, 18 anni, mi sono trovato subito dall'inizio veramente bene e a casa, venendo da Milano, magari da una realtà diversa, approdando in Sicilia, a Giarre che magari dico che si conosceva poco, ma per me non ha avuto paragone. Faccio gli auguri di Buon Natale, tutto Giarre, tutti gli amici sportivi, stiamo sempre vicini alla squadra perché merita di stare in più in alto, ambizioni diverse da quelle che sono tuttora.